Le previsioni dicono che le condizioni peggioreranno, soprattutto nelle zone interne, e a quote di 400-600 metri. Se la temperatura a Catania si attesta sugli 11 gradi, ad Enna la massima non supera i 3 gradi e meno 4 è la minima. Mentre le olie sono isolate, la viabilità regionale per ora non è in tilt, ma si teme per le prossime 36 ore, in particolare nell'area centrale dell'isola. Nevica sulla A19 nel tratto palermitano Tremonselli-Scillato, dove non è percorribile la corsia di sorpasso, mentre è chiuso un tratto di 30 km della statale tra San Fratello e Cesarò. Ghiaccio sulla Enna-Piazza Armerina, dove si circola con catene a bordo. Chiuse la Nicosia Mistretta e la Nicosia Leonforte. Obbligo di catene sui Nebrodi e nelle Alte Madonie. Allerta sulla Messina-Palermo, tra gli svincoli di Brolo e Santo Stefano di Camastra, per probabile formazione di lastre di ghiaccio. Sull'Etna-Imbiancato, a causa di una tormenta, soccorsi tra ieri e stamattina oltre 100 auto in panne e due pullman. In tanti salgono ad alta quota senza catene o senza saperle montare. La protezione civile di Adrano, a piano provenzana, ha dovuto assistere decine di automobilisti. Allerta anche a Palermo e Catania, per i senza tetto, in vista del calo delle temperature. Prima l'annuncio del sottosegretario alla difesa, Filippo Milone, di 60 posti alla caserma Sommaruga di Catania. Poi la marcia indietro per problemi burocratici. La Caritas rimedia per il momento. Abbiamo detto anche durante Sant'Agata che era necessario aprire salotti. Ci sembrava molto bella l'idea che le caserme aprissero le loro porte. Purtroppo questa non si è potuta realizzare, ma noi non ci perdiamo d'animo. I posti, come dire, per adesso sono sufficienti. Ne abbiamo messi a disposizione 135, le domande sono state 122, quindi per adesso siamo a posto.